Lino D'Andrea ti parla del bonus gas, quale sono i problemi? Non sappiamo se è bonus gas o malus gas, nel senso che molti cittadini si lamentano a contrario di quanto promesso che sulle fatture oramai questo bonus gas è limitato a pochi centesimi al giorno. Vediamo fatture di 6-700 euro con sconti di 20 euro e i cittadini naturalmente non capiscono perché ripetutamente gli viene detto che il bonus gas in Basilicata c'è e il gas è gratis, ma così non è. Noi stamattina abbiamo invitato Bardi, Latronico e Vergari dell'Apipas, ma si sono dati alla macchina, non sono stati presenti a raccontarci la loro versione. Ma bonus gas alle famiglie è un certo risparmio, ma alle aziende no? Noi non chiediamo che vengano date alle aziende, noi chiediamo che i cittadini, io, lei e tutti quelli che ci ascoltano, effettivamente abbiano azzerato la molecola gas, così come è stato ripetuto ed è ripetuto quotidianamente dai nostri politici, ma così non è. Poi c'è il discorso dell'acqua gratis, poi c'è il discorso della benzina gratis. Qualcuno mi chiama da fuori regione, i nostri paesani che vivono fuori regione, mi chiedono se in Basilicata ci sono anche gli alberi che cacciano gli zecchini come Collodi raccontava nelle sue fiabe.